Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come ogni giovedì Oggi si ritorna in casa, si ritorna al palazzetto dello sport di Baricella Per affrontare quella che è la penultima in classifica, la posa Bologna Oggi affronteranno coloro che sono penultimi in classifica Ci sono 8 punti di distacco tra le due squadre Il Bazza deve ritrovare la vittoria che non ha potuto ottenere nell'ultima partita contro il Bologna Vediamo come se la caverà la squadra di Andrej E se ci sarà comunque una reazione dopo l'ultima partita Intanto abbiamo sistemato tutto in macchina come al solito Per quanto riguarda la partita, andiamo a dare news e dati dopo Quando saremo all'interno del palazzetto Detto questo Fabio è già in macchina, come la volta scorsa guiderà lui Per tutti i fan di Fabio, Fabio sta diventando vecchio ora guida lui, non più io Complici anche la mia spalla, quindi niente, adesso andiamo dentro Faremo le classiche domande che avete posto voi a Fabio Sì, noi adesso entriamo in macchina e come sempre vedremo quali sono i vostri dubbi, quali sono le vostre domande E risponderemo per voi ai vostri commenti Andiamo, vai capelli strani, metti in moto Eccoci dunque in macchina pronti a raggiungere il palazzetto dello sport di Baricella Noi intanto andiamo a leggere le vostre domande e a rispondere tutto quello che ci avete chiesto nell'ultimo video Andiamo Fred Andiamo Allora partiamo con la prima domanda di Simo Ducati che chiede Una domanda per Fabio Come è stato il passaggio definitivo dal calcio 11 al futsal? Riguardando dei vostri vecchi video di provini Ho notato che Fabio ha avuto l'opportunità di giocare in settori giovanili professionistici come Inter, Bologna eccetera Come mai non sei mai riuscito a giocarci? Un ultimo consiglio a Fred e Antimo A parere mio siete tutti e due fortissimi Dovreste cominciare a giocare perché avete potenzialità nonostante l'età Vabbè partiamo dal nostro commento e ti ringraziamo intanto Simo Ducati per l'incentivo di ricominciare a giocare Magari è un qualcosa che potremmo portare più avanti anche a seguito della mia guarigione Inoltre prima di rispondere al commento di Simo Ducati mi andrei a collegare con un altro Quello di Davide Feneri che ci dice Francesco sei un grande ma di che anno sei? Sono un 2004 quindi quest'anno dovrei fare 19 anni Verità breve il 31 marzo quindi sì sono ancora abbastanza giovane e più giovane Fred e 3 E per quanto riguarda le potenzialità grazie Molte animatori mi dicono di riprendere a giocare Perché ho anche un po' sbagliato a smettere perché comunque le qualità non mi mancavano Però onestamente quello che mi va in questo momento è di prendere una pausa e non giocare Però anche io come detto Antimo prima potrei riprendere il prossimo anno Il passaggio da 11 a 5 è stato abbastanza complicato Soprattutto inizialmente ci sono tantissime cose a imparare Tutti i movimenti c'è molta tattica da sapere Comunque mi è sempre piaciuto fin dall'inizio il calcio a 5 e ancora oggi Sono felice della scelta che ho fatto Sì ho fatto abbastanza provini quando ero più piccolo Però comunque in tutte le società professionistiche cercano molto il fisico Ed era sicuramente una cosa che a me penalizzava molto Soprattutto intorno alla fase della crescita 13-14 anni ero ancora molto esile Quindi sicuramente questo è stato un fattore molto importante Sì che poi tra l'altro un altro piccolo aneddoto a proposito di fisicità Quando andiamo a fare il provino per il Sassuolo C'era il direttore sportivo insomma che credeva che il provino lo dovessi fare io Che avevo tipo 6 anni in più Un aneddoto che fa un po' ridere fondamentalmente appunto Perché non si aspettavano che un giocatore così piccolo Potesse sostenere un provino per una società professionistica così importante come il Sassuolo Domanda di Pietro Savastano direttamente da Gumorra per Fabio Dopo i 4 gol che hai fatto con l'Under 19 Avrei preso più fiducia in te stesso? Proverai di più la giocata e anche il gol? Insomma sarei meno altruista o no? Beh sì sicuramente la partita con l'Under è importante da questo punto di vista Mi può dare sicuramente fiducia E poi comunque diciamo che aiuta molto segnare per fare altri gol Quindi spero che magari anche nella partita di oggi mi possa aiutare Non penso che sarò meno altruista Penso di fare comunque la scelta che in quel momento ritengo giusta Che magari a volte può essere avere meno altruismo e provare a tirare Andiamo con la domanda da parte di Fede Ciao Fabio volevo sapere perché nel calcio a 5 Quando uno segna viene spesso sostituito Invece di sfruttare l'entusiasmo dal momento dato dal gol Beh più che altro perché comunque è uno sport molto molto faticoso Quindi anche se c'è l'enfasi del gol Si preferisce comunque far riposare il giocatore E magari posticipare quella enfasi a quando rientrerà dopo Comunque siamo appena arrivati al palazzetto dello sport di Baricella Quindi niente possiamo andare Eh sì siamo arrivati andiamo dentro Fre Allora andiamo a prepararci per la partita come sempre Introduzione, intervista a Fabio E poi mettiamo le telecamere Per prepararci a balza a posa a Bologna Eccoci dunque nello spogliatoio come sempre Siamo pronti per fare le nostre domande a Fabio Dunque iniziamo subito con la prima Oggi arriva una squadra comunque più alla portata C'è la posa a Bologna penultima in classifica Probabilmente siete favoriti in questa partita Anche dettato l'ultima sconfitta della posa a Bologna Per 8 a 1 contro il Casal Grandese Che è stata una partita che voi avete buttato un po' via Quindi come ci arrivate alla partita di oggi E se siete comunque ottimisti per oggi Sì diciamo che veniamo da un periodo abbastanza difficile Soprattutto perché si sono concentrate diverse partite difficili Nell'ultima mentre abbiamo affrontato sia a Bologna che all'Olimpia Regium Quindi sia importante adesso riprendersi in una partita comunque più abbrodabile Dobbiamo rialzarci e vincerla per forza Oggi tra l'altro tornano con voi Calai e Conti Secondo te in questo tipo di partita il loro apporto si farà sentire Nel senso che nell'ultima partita abbiamo visto come siano mancati La fine della sconfitta sia arrivata e comunque anche abbastanza netta Sì sicuramente sono state due assenze molto importanti E sicuramente oggi daranno il loro contributo Quindi sì sono due giocatori importanti per la nostra squadra E sicuramente ci aiuteranno molto Ti senti segnare oggi? Lo prendo comunque un sì che i taci acconsente Eccoci anche con le mie domande e con le mie considerazioni Fabio oggi sicuramente è importante dare uno scossone alla classifica Meno 9 dal Ponte d'Era Insomma siete lontani ormai dalla zona playoff Pensi che la potete ancora raggiungere? Sicuramente è molto molto difficile Però è nostro dovere provarci Visto che ormai siamo salvi Dobbiamo puntare a qualcosa per dare una motivazione a queste partite Dobbiamo cercare di dare il massimo Anche se è difficile provarci Pensi che cercherai di più la giocata? Penso di sì Ottimo Ultima cosa che voglio ricordarti Oggi terzultimi contro quartultimi E tu mi starai dicendo ma come? Sì Perché la posa a Bologna per condizione fisica E quartultimo il balza terzultimo Siete addirittura dietro alla posa a Bologna Stando alle ultime cinque partite Quattro punti per voi Cinque appunto per la posa Sì vabbè comunque come hai detto prima C'è da dire che ci sono concentrate partite difficili In questo periodo per noi Abbiamo affrontato sia Bologna che Olympia Regium Le prime due Che sono davvero molto difficili da battere Quindi dobbiamo rimediare sicuramente questa partita qua E superarli anche in forma fisica Ok allora noi adesso andiamo dentro Con l'introduzione alla partita E lasciamo andare Fabio a cambiare Per prepararsi alla ventunesima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Buona fortuna Fabio E complimenti per il tuo primo gol In Serie B di Futsal Vabbè Eccoci all'interno del palazzetto Dello Sport di Baricella Dove a breve scenderanno Su questo campo Su questo parquet Le due squadre Che inizieranno il riscaldamento Prepartita per inaugurare Quella che sarà la ventunesima giornata Del campionato di Serie B di Futsal Balza a posa a Bologna Oggi la partita comunque è molto interessante Il Balza deve reagire dopo l'ultima sconfitta È un periodo un po' negativo Un solo punto trovato Nell'ultime tre partite Vediamo se oggi ci sarà una reazione 13 sono i punti in classifica Della posa a Bologna 8 quelli di distacco Con il Balza Vediamo se appunto Oggi si mostrerà Anche sul campo Questa differenza di punti Esatto Vedremo se anche in campo Si paleserà questa differenza A livello di punteggio Per quanto riguarda la classifica Il Balza è distante Invece 9 punti dal Ponte d'Era Per raggiungere la zona playoff Intanto come ricordavamo prima Nelle pre partite anche con Fabio Terzultimi contro quartultimi Per quanto concerne Il discorso forma fisica Quindi bisogna anche vedere Come arriverà a questo match Il Balza E se riuscirà a dare una reazione Ricordiamo inoltre Il giocatore giapponese Takahiro Mogari Calcettista da seguire Con particolare attenzione 15 gol per lui in stagione Ed in campionato È un fattore importante Per la squadra In trasferta quest'oggi E riesce generalmente A dare sempre il suo contributo Alla causa Si vediamo se comunque La posa a Bologna Oggi riuscirà Tirare fuori una buona prestazione Nell'ultimi 10 incontri È trovato una sola vittoria Chiaramente anche per questo Il Balza penso che oggi Partirà con i favori del pronostico Però poi chiaramente C'è sempre a dimostrarlo sul campo Vediamo tra l'altro Come si comporterà Fabio L'ho visto comunque Anche abbastanza sereno Secondo me questa potrebbe essere Anche la giornata del suo gol E speriamo Fre Speriamo che questa possa essere La giornata della sua prima realizzazione In Serie B di Fuzza Noi intanto ora possiamo andare A piazzare l'attrezzatura Per prepararci al meglio A questa ventunesima giornata Del campionato di Serie B di Fuzza Tutto pronto in cabine di regia Pronti ad assistere All'ingresso in campo Delle due squadre Per raccontarvi quella che sarà La ventunesima giornata Del campionato di Serie B di Fuzza Andiamo Pochi istanti Pochi attimi All'inizio della ventunesima giornata Del campionato di Serie B di Fuzza Il Balza per dare uno scossone Alla propria classifica Al proprio campionato E per ritrovare una vittoria Che pensate un po' Manca dal 4 di febbraio Manca da più di un mese La posa Bologna invece Per salvare la faccia Sì e anche la posa Non trova la vittoria da un po' Non la trova dal 18 di febbraio Contro l'Arpinova Vediamo Se riuscirà a dare un segnale Una reazione Dall'altra parte il Balza Ritrova Conti e Calaia Sono pedido importanti Nello scacchiere di Andrei Ci vedremo Se lo saranno anche oggi Tornano Superbike E Abra Calaia Il 7 e il 10 Presenze importanti Al palazzetto dello sport Quest'oggi Riusciranno a dare sicuramente Il loro contributo alla causa D'altro canto Manca Ayman Maizi Il caimano Il numero 4 Che è stato reduce Anche da una marcatura importante Quella del momentaneo 3-2 A Castenaso contro il Bologna Vedremo se oggi si noterà la sua assenza Vedremo chi lo sostituirà Come lo farà Intanto adesso vediamo anche il testo croce Tra i due capitani Testo croce che vince Capitano Aprile in questo caso Adesso l'arbitro pronto a inaugurare La ventunesima giornata Fischietto in bocca È tutto pronto Oggi è una partita importantissima Fre il Balza non deve fare cilecca Come è successo Nelle partite passate Sì sicuramente Ci sono diverse posizioni di stacco In classifica fra Balza e Ponte d'Era Vediamo adesso 9 punti Farà le due compagini Oggi comunque il Balza Deve riprovare A prendere punti in classifica E cercare di avvicinarsi A quella che è la zona playoff Al momento Molto distante Eh sì Il Balza deve crederci Anche per onorare Il proprio campionato Eppure perché oggi C'è una partita comunque difficile San Giovannese-Ponte d'Era Vedremo quale sarà l'esito di questa Intanto un minuto di silenzio Per le vittime di Cutro Tutto pronto Manca ormai pochissimo All'inizio di questa partita Con le due squadre Che si stanno disponendo in campo Vediamo ora inquadrato Takairo Mogari Uno dei giocatori da seguire Con particolare interesse Tra le file ospiti Inquadrato anche Nicola Scalaia Che partirà dalla panchina Quest'oggi Ma andiamo a vedere Quelle che saranno Le formazioni che scenderanno in campo Partiamo dal Balza Che schiera Dibitonto in porta Davanti a sé come ultimo Fusca Laterale destro Simone Laterale sinistro Toschi Come pivò Mordacci Dalla parte opposta invece troviamo Santo Nocito in porta Davanti a sé il capitano Aprile come ultimo Laterale destro De Pietro Laterale sinistro Mogari Come pivò Evangelisti Tutto pronto Parte ora il match Con Fusca che gioca Il primo pallone per Simone La palla rimane lì Un po' di confusione generale Fallo laterale Primo fallo laterale della partita In favore dell'Aposa Adesso primo pallone in direzione Takahiro Mogari Non riesce a arpionare la sfera Il giapponese Adesso Dibitonto Gioca la palla per Fusca Da questi a Simone Cerca una soluzione Rischia un po' Simone capisce tutto Aprile Che per poco Non trova il guizzo vincente Bravo Dibitonto a disinnescare il 18 E ora rinvia velocemente A cercare Simone Non lo trova Perché c'è un ottimo intervento E il ripiegamento difensivo Da parte della difesa avversaria Cerca la soluzione Adesso un balza abbastanza statico Non riesce a trovare la trama giusta Si chiude anche molto bene la posa Rompere le linee di passaggio Fusca Con questo filtrante bellissimo In direzione Mordacci Capisce tutto Santo Nocito Che ci mette una pezza E si rifugia in fallo laterale Molto bene quell'uscita dell'uno E adesso fallo laterale Proprio affidato ai piedi di Fabrizio Simone Che va da Fusca Parte il tiro Alto Sopra la traversa Primo squilo per il balza Dopo tre minuti di gioco Si il balza prova a dare un segnale Lo fa con questo tiro dalla distanza È difficile Cercare di sorprendere il portiere da lì Però intanto Prova a costruire qualche manovra offensiva Alla squadra di Andrej Prova ad avanzare il numero due Serve la palla a Mordacci Da questi a Calaia Entrato ora al posto di Toschi Vediamo cosa riesce a creare Il fantasista del balza Che va ora da Fusca Da questi a Mordacci Che riesce a domesticare un pallone È difficile E poi va dentro sempre da Simone Fabrizio Simone E arriva il vantaggio del balza Arriva all'uno a zero E non poteva non arrivare Se non beccando la traversa Un marchio di fabbrica di Fabrizio Simone Che sigla così Il quarto gol stagionale Il quarto gol in campionato Grandissimo gol da parte di Fabrizio Simone Che come sempre dimostra avere un ottimo tiro Questa volta è più ravvicinato Però ancora una volta Dimostra Di quanto sia bravo In questo tipo di conclusione Il tiro non è facile È vero è ravvicinato Però comunque c'è da battere il portiere E lo fa con estrema qualità E adesso Calaia Che sfida Aprile Cerca di farlo fuori Aprile molto bene sul numero 10 Che si rappropria del pallone E poi prova a sprinteggiare In mezzo al traffico Ancora Aprile Fa partire il destro Di Bitonto con la punta Dunque Aprile Da questi a De Pietro Che verticalizza male Conti capisce tutto All'altro di Conti Palo interno E palla fuori Ma adesso attenzione Aprile Ingenuità del numero 18 Che regala la palla a Calaia Che vada Conti Si divora Alla rete del raddoppio Il numero 7 Che qui avrebbe potuto fare Sicuramente qualcosina in più Si la palla di Calaia Forse un pelino troppo arretrata E quindi Conti Non riesce a colpire Proprio come avrebbe voluto Rivediamo intanto Il palo precedente Due grandi occasioni Nel giro di pochissimo tempo Per Conti Entrambe Vanificate Ma per pochissimo Intanto esercizi Di mobilità Articolare Anche per Gianluigi Ferrante E Fabio Di Mauro Entra ora il prof Proprio al posto Di Nicola Scalaia Dunque De Pietro Torna sempre da Mogari Cerca le finte danni Di Ferrante Capisce tutto Ferrante Che per poco Non si fa sentire Subito dopo poco Il suo ingresso in campo Adesso La palla lunghissima Per Mazzara Che non riesce però A giocarla lì indietro Esce il numero 3 Ettore Fadiga Entra ora con la 11 Fabio Di Mauro E ora sempre Aprile Cerca sempre la porta Questa volta Di Bitonto Non ci casca Neutralizza la sfera E riesce a rilanciare Senza però Servire un giocatore Della propria squadra Dunque Il 7 Che va dal 20 Che però non riesce A impostare Vediamo Simone Che prova ora A innescare Fabio Col tacco Capisce tutto Aprile Che però Regala nuovamente Il pallone al numero 11 Che poi elegante Nel possesso Riesce a districarsi Nel traffico E appoggia Ferrante Che cerca di rimandare In profondità Il numero 11 Ceno d'ok Da parte di Fabio A Ferrante Bella la trama di gioco Bella l'idea Non è riuscito ad arrivare Sul pallone però Fabio Partito tardi Fabio Forse non si aspettava Neanche la palla di Ferrante Che è comunque giusta Penso che Si Fabio Sarebbe dovuto partire prima Adesso vediamo Fusca Che va da Fabio A spazio il numero 11 Che decide Di servire Simone Che cerca la palla di ritorno Sempre per Fabio Bravo però Ripiegamento difensivo Ora La medica Ma attenzione ancora Fabio In mezzo al traffico Duella con Aprile Alla meglio Il numero 18 avversario E ora il numero 1 Va lunghissimo A cercare la testa Di qualcuno Trova ora invece L'intervento di Fusca Che va sempre da Fabio Prova il numero 11 Andare da solo Sfida la medica Cerca di ritagliarsi Lo spazio per il sinistro Lo prova e lo trova Pronto a rimettere Il pallone in gioco Gli lo passa il compagno Di squadra Santo Nocito Che sta disputando Un'ottima partita Fino ad ora Adesso seguiamo La medica Che va lungo Bravo Fabio insomma A struire il passaggio Del numero 7 però Non desta troppi problemi Ora seguiamo Aprile Cerca il dribbling A danni di Simone Capisce tutto il numero 5 Fallo laterale Sul pallone Tanta confusione Partita poco bella Ora in questo istante Vediamo Fabio che rimette Il pallone in gioco Lo fa col piede debole Vada Ferrante Da questi a Fusca Che cerca di propizzare L'inserimento di Simone Che con il destro Non riesce a centrare Lo specchio della porta Liscia il pallone Palla altissima Si perde sul fondo Con Santo Nocito Che ora può rimettere La sfera in gioco Ancora Ferrante Cerca il passaggio di ritorno Per l'undici Che cerca Uno stop orientato Finalizzato Ad essere un dribbling Capisce tutto Dradi Ma poi capisce tutto Anche Fusca Fabio in mezzo al traffico Duella Adesso tanta confusione Ferrante con la testa Fabio scorta Il pallone Lo fa arrivare a Fusca Che cerca lo spazio Per il destro Palo Altra azione importantissima Per il balza Palo colpito Da Dennis Fusca Bravo Fabio Qui a far passare il pallone E a mettere un po' di ordine Dopo la tanta confusione Vista nei minuti precedenti Poi il palo esterno In questo caso Non interno Fallo laterale Si bravo Fusca Perché fa passare la pala In mezzo alle gambe del difensore Cerca E trova quello spazio lì Poi però Il palo Del balza Adesso Simone Che vada Ferrante da questi A Di Mauro Fabio che prova A far esplodere il mancino In questo caso La palla gli rimane troppo sotto Strozza Il sinistro Dunque Rimessa dal fondo Voleva un tocco Da parte di un giocatore avversario Fabio E Calaia si va a riprendere Un pallone di prepotenza Poi va a innescare Fabio Il controllo Con la sola del numero 11 Che poi sguscia via sulla medica Attenzione Fabio Contro Santo Nocito A un passo Dal primo gol Nel mondo della serie B Di Fuzzal Fabio Che miracolo del numero 1 Avversario Rivediamo tutto da replay Prima come Calaia Si ristreca benissimo Nelle file avversarie Poi trova Fabio Che è bravo Prima a mettersi col corpo Poi a sgusciare via Peccato Perché nel momento In cui c'è da essere lucidi Per battere il portiere Gli manca un po' di freddezza E il portiere comunque Molto bravo A compiere una vera e propria parata Miracolosa Bravissimo il portiere A riuscire a guadagnare Quei due metri Ad avanzare E poi dopo chiudergli Conseguentemente Lo specchio della porta Qualora fosse rimasto in porta Probabilmente Non sarebbe riuscito A raggiungere Il pallone Che si sarebbe alzato Forse doveva tirare Un po' più alto Dall'inizio Insomma Invece in una fase finale Probabilmente Il pallone avrebbe raggiunto Un'altezza più alta Aprile Va dal 20 Sbaglia il passaggio Capisce tutto Pozzi Attenzione alle ripartenze 3 contro 1 Pozzi Va da Calaia Ancora una volta Santo Nocito Monumentale qui Che partita sta facendo Mamma mia Qui bella la ripartenza Bravissimo Pozzi Nella scelta E Calaia Non riesce a trovare il gol Sì Molto bravo Pozzi Che ha letto tutto in anticipo Riuscito a ripartire In un Praticamente 3 contro 1 E poi Ha servito Calaia Che non è stato freddissimo Ma sicuramente Tantissimi eriti Vanno al portiere Che È stato bravissimo Nel coprire il più specchio Possibile Viene colpito ancora In questo caso Dal pallone E Tanti complimenti a lui Perché la parata È molto importante Quanto bella Adesso Calaia Va proprio da Pozzi Che sfida Mezza difesa avversaria Pozzi col sinistro La palla rimane lì Attenzione Toschi col destro Giro È ancora una parata Incredibile Di Santo Nocito Che si sta mettendo Davvero in proprio Quest'oggi Sì bella parata Questa è la parte di Santo Nocito Il tiro È d'interno Quindi non fortissimo Però Toschi Lo indirizza molto bene Passa vicino Anche a diverse gambe Molto attento Il portiere che le spinge E adesso Ferrante Che va da Avera Calaia Che cerca una soluzione Porta la palla Sempre con la sua eleganza Il destro Palo Sta producendo tantissimo Ma rimane solo 1-0 Attenzione Santo Nocito Sbaglia tutto Capisce tutto Conti Ma bravissimo Qua Aprile Ora Bello lo scatto in avanti Da parte di Aprile Cerca di premiarlo Dradi Che va proprio da lui Supera anche di Bitonto Fadiga Davanti alla porta Sventa ogni eventuale pericolo E cerca di far ripartire Dalla parte opposta Conti Che prova a sprintare E poi si appoggia a Calaia Che torna sempre dal 7 La punta Deviata proprio da Dradi Adesso Fallo laterale Esulta il 2 E sempre 1-0 Balza Con Calaia pronto a rimettere Il pallone in gioco Lo fa ora fidando la sfera Conti Che ha spazio per calciare Poi ci ripensa E torna da Ferrante Da questi a Fadiga idealmente Perché capisce tutto Mogari che va direttamente A calciare in porta Ma di Bitonto Di certo non dorme E finisce ora La prima frazione di gioco Il punteggio dice Balza 1 Aposa 0 Una bellissima prima frazione di gioco Però il Balza Non sta riuscendo a chiudere Una partita che avrebbe potuto Già chiudere Sì Tanta occasione per il Balza Che comunque sta rispondendo Un buon primo tempo Come sempre Un ottimo Abra Calaia A segnare però il gol del vantaggio Al momento è Simone Anche lui Ottima partita Il Balza comunque deve cercare Di trovare qualche gol in più Perché ha prodotto molto Ma ha realizzato poco Eccoci dunque Al termine della prima frazione di gioco Il punteggio dice Balza 1 Aposa Bologna 0 E' partita bene la squadra Di Veli Mirandrec Che è riuscita a ipotecare Subito il risultato Portandosi in vantaggio Di una rete Grazie a Fabrizio Simone Dopo è un po' calato Ha sciupato un po' tanto Anche Fabio peccato Che è andato molto vicino al gol Però il punteggio Ancora solo sull'1-0 E adesso bisogna stare attenti Sì Concordo in pieno Penso comunque sì Fabrizio Simone sta facendo Una partita fantastica Non solo per il gol Ma anche in generale Per l'apporto difensivo E anche le intercettazioni Che sta dando alla partita E comunque C'è da dirlo Il Balza sta disputando Una buona partita Però è vero Sta iniziando a sprecare un po' tanto E deve stare attento Perché comunque ogni tanto Gli avversari riescono ad arrivare Vicino alle zone di lì di Bitonto Per quanto riguarda Fabio Concordo Sta giocando una buona partita Peccato per quell'occasione Che è andata via sull'esterno Avesse alzato un pizzico Di più il pallone Probabilmente staremo parlando Del primo gol stagionale Detto questo Ora il Balza deve essere anche bravo A chiudere la partita E per non rivedere gli spettri Del Real Casalgrandese Due settimane fa Esatto La sensazione sembra Comunque la partita La stia giocando bene Però lo spettro Della partita Con la Real Casalgrandese Rimane Qui c'è da capire se il Balza Comunque continuerà Sul buon primo tempo Che ha disputato E tra l'altro Mi sta piacendo comunque In generale anche molto Fabio Peccato sì per quell'occasione Però ce l'ha dirlo Oggi sembra molto intenzionato Tirare verso la porta E comunque cercare Il suo primo gol stagionale Anche qua nel primo tempo C'era un'occasione In cui probabilmente La cosa giusta da fare Era servire Fusca Verso la porta Ha deciso di andare da solo Probabilmente è stato un errore Però al contempo Ci ha dimostrato di come lui Oggi voglia segnare Il suo primo gol stagionale E vediamo se questo accadrà Nel secondo tempo Di Balza a Posa Bologna Adesso andiamo dentro Con il secondo tempo Squadra è scesa Nuovamente in campo Eccoci nella ripresa Per seguire assieme Balza a Posa Bologna Vedremo quale sarà La reazione da parte Dei ragazzi di Mr. Veli Mirandrec Che devono continuare così Quelli invece di Davide De Matteis Hanno bisogno di una reazione E intanto è tutto pronto Sul punto di battuta Evangelisti Che batte in questo istante All'indietro A favorire Aprile Vediamo se riuscirà A chiudere definitivamente La partita Il Balza Partita che spesso Non è riuscito a chiudere Nella seconda frazione Il gioco Mi viene in mente Sant'Agata Real Casalgrandese Oggi non deve ricadere Nello stesso errore Ma adesso seguiamo Mogari Che cerca di tagliarsi Lo spazio giusto Per la conclusione Non arriva Allora torna all'indietro Con Aprile Che va al mancino Ribattuto da Ferrante La palla rimane lì Ancora Aprile Poi Conti riesce A recuperare Dunque Calaia E da questi poi Ferrante E conseguentemente Simone Che cerca ora di ripartire Cerca lo spazio Per calciare Lo trova Dunque dalla bandierina Nel numero 2 Cioè Aprile al centro Così come Mogari Dietro di lui Ora l'inserimento di Vangelisti A favorire Mogari Takahiro Mogari Sedicesimo centro stagionale Sedicesimo gol in campionato Era uno dei giocatori A cui prestare particolarmente attenzione Lo avevamo detto Anche in fase di prepartita È arrivato il gol del pareggio È arrivato il gol Di Takahiro Mogari Sì molto bravo In questa conclusione Che va a battere Di Bitonto Tiro abbastanza ravvicinato Se lo perde un po' la difesa Ma lui è bravo Comunque a concludere In maniera potente Forte e precisa Per il gol che vale 1-1 Eh sì vediamo se ora il balza Riuscirà ad avere una reazione Con Ferrante Che va da Conti La pressione dell'8 Sul numero 7 Che va da Simone L'anticipo ora di Aprile su Calaia Che capisce tutto Va al sinistro Di Bitonto Capisce tutto Simone Che va a riprendersi però Il pallone con rabbia Voglia E va poi a anniscare Calaia Che torna da Simone Il pallone è un po' indietro Ora è il numero Del 5 E danni del 18 Adesso vediamo Aprile che cerca di verticalizzare Per Evangelisti Capisce tutto ora Mogari Che va Sempre da Evangelisti Torna dall'8 Il destro Di Bitonto Ci mette le manone E poi Simone prova a ripartire Dunque Calaia Cerca lo sprint Su Dradi Calaia E ancora una volta Santo Nocito Poi Simone E poi arriva Aprile Adesso fallo Piede a martello Secondo il direttore di gara E sulla traiettoria Del numero 9 Che cerca di inventare Un momento E lo fa in direzione Conti La sportellata Da parte di Aprile Che si va a riprendere Un possesso importante Che partita sta facendo il 18 Che ora ha messo alle strette Anche Superbike Che si va però a riprendere Questo pallone In collaborazione con Calaia Prova a sprintare Il numero 10 Chi ha gas Va al destro E ancora una volta Aprile Che esulta come se avesse fatto un gol Si lamenta un po' Toschi al centro Che avrebbe voluto il pallone Prova a impostare il numero 1 Con i 4 secondi di gioco A disposizione Verticalizza per Calaia Che cerca lo spazio per il destro E poi Aprile Monumentale Ancora una volta Adesso attenzione Perché finisce a terra Il numero 18 Sullo scontro Con Abra Calaia Va ora a dialogare Molto bene per Toschi Si va a riprendere il pallone Calaia Attenzione Calaia Ci mette una pezza Monumentale Dradi Che esulta un'altra volta Perché qui toglie le castagne dal fuoco E sventa una Occasione sicuramente pericolosa E ora Mazzara Verticalizza molto bene per Mogari Pettina bene la palla con la sola Poi va a Mancino Che si perde A lato Adesso Aprile è rientrato Ma non ce la fa E mette la palla fuori Il tentativo del numero 18 Di voler rimanere in campo E conservare il risultato È sicuramente lodevole Entra ora Fabio Di Mauro Con la 11 Esce Samuel Mordacci Adesso vediamo se riuscirà a dare il suo contributo Alla causa Fabio Fadiga Che va da Ferrante Chiama la verticale di Fabio Che riceve il pallone Si sgancia molto bene il numero 11 Che poi duella con la Medica Bello il controllo con la sola Da parte dell'11 Che poi Si porta a casa Anche un prezioso fallo laterale Pressione fallosa Quella di la Medica E Mazzara Buon calcio di punizione Che si porta a casa l'11 Adesso Fusca Va proprio da Fabio Che fa esplodere il mancino Col piede Santo Nocito Che ora Si supera nuovamente Una partita davvero da ricordare Uno sguardo attorno a sé Va a premiare ora Fabio Il gioco con la sola di Fabio Che rischia Sull'attacco di Mogari Poi finisce In maniera igreggia E affidando la sfera Sempre a Fusca Da questi a Calaia Prova a sprintare il 2 Sull'attacco di Dradi Se la cava bene Poi vince anche un paio di rimpalli Da questi a Fabio Che verticalizza per Calaia Attenzione Calaia giù Mano nel taschino Per il direttore di gara Con Santo Nocito Che va a protestare Calaia Dolorante Al gomito sinistro Adesso vediamo Cartellino in mano Per il direttore di gara Che glielo esibisce Qui viene fischiato Evidentemente Un fallo di simulazione Per Abra Calaia Dalla nostra Prospettiva Sembrava Davvero ci potessero essere Presupposti per il rigore La Medica Che si sgancia dietro Assieme A Mogari Che riceve Ora il pallone Va dentro A cercare forse L'inserimento proprio di Mazzara Che non ci arriva Molto bene Con la sola Calaia Verticalizza ora da Fusca Che spalleggia con Dradi Che torna da Abra Calaia E arriva il vantaggio Del mago Del palazzetto Dello sport di Baricella Che ora esulta Con l'aquila albanese Ma Che gol ha fatto Abra Calaia Partito da lui Voluto da lui E poi molto bravo anche Fusca Nella palla di ritorno Sì tutto giusto Bravo Fusca Nel trovare questo spazio Per servire Calaia Che comunque è bravissimo A coordinarsi in un spazio ristretto A beccare Comunque sul proprio palo In controtempo Il portiere E adesso il balza Torna più uno Merita questo vantaggio Nel complesso di tutta la partita Adesso vediamo Se riuscirà A ghiacciare Il risultato Dunque Fabio Calaia dice a Fabio di puntare Fabio lo fa E fa fuori la medica Va dentro da Fusca Molto bene qui In copertura difensiva Dradi Ma adesso È un balza che sta crescendo È un balza che è cresciuto Anche dopo l'inserimento Da Fabio C'è da dire Dopo l'inserimento di Fabio C'è da dire Perché Tanta roba Insomma ha dato il suo contributo Sì tra l'altro Noterai come la medica Sembra piuttosto in difficoltà Con Fabio Su quella fascia Anche nel primo tempo Fabio è andato via proprio a lui Abra Calaia in mezzo al traffico Si appoggia Al numero 11 Che va da Ferrante Di prima gira molto bene Il palo nel balza Che va da Fusca Ancora Fabio Adesso Fusca Che va da Ferrante Da questi a Fabio Difende la palla col destro Fabio di Mauro E arriva il gol Il primo gol in Serie B di Fusca L'esultanza di Calaia L'esultanza di tutto il balza Un gol Voluto Cercato dal 3 dicembre 98 giorni dopo Prato È arrivato Il gol Di Fabio di Mauro Lo aspettavamo tutti Lo aspettava anche di Bitonte Tutti i suoi compagni Abbiamo visto l'esultanza Da parte di tutta la squadra Che lo aspettava Quanto lui Questo gol È arrivato In un momento importantissimo In un momento difficilissimo Per il balza Trova il 3 a 1 E si prende tutti i meriti Anche di tutti i suoi compagni Un gol voluto Dalla decima giornata Di campionato Da quando si è iniziato Questo percorso E Fabio Grazie al lavoro Alla determinazione E al tanto sacrificio È riuscito a raggiungere Un obiettivo importante Ma adesso seguiamo subito L'Aposa Con Mogari Che va vicinissimo Alla rete del 3 a 2 Bravissimo Fusca A immolarsi Sul tentativo di tiro Da parte del numero 8 Rimessa in gioco Ora per l'Aposa Un gol incredibile Da parte di Fabio Che fa Tutto bene E fa tutto col piede debole Dunque il 6 Deve tornare dalla medica Da questi a De Pietro Buonora allo scambio Bella la trama di gioco Di tutta l'Aposa Con Mogari Che va al centro A cercare De Pietro Bravo Ferrante A ostruire Le intenzioni del 20 E intanto esce Fabio Entra Il dottore Entra Ettore Fadiga Fabio che ora si va a prendere I complimenti anche del mister E di tutta la panchina Bello anche il sorriso di Steve Che scherza con Fabio Molto contento anche per lui Belle queste immagini Bello comunque anche in generale Tutta l'esultanza Che c'è stata Per il gol di Fabio Un gol che Non ha sentito solo lui Ma anche tutti i suoi compagni Ci tenevano tutti A vedere Fabio segnare Il professore E dietro che fa l'ultimo E quest'oggi lo sta facendo Davvero egregiamente Suo tra l'altro Il passaggio vincente per Fabio Uno dei giocatori Che cerca più spesso la verticale Infatti riesce In più riprese Andare a pescare Fabio Ma attenzione Alla disattenzione di Mogari E Conti per poco Non ne approfitta Provvidenziale la medica Che riesce A fare il portiere In questo caso Visto che il portiere di movimento È De Pietro Ed è fuori dai pali E Fadiga E arriva la rete Del 4-1 Un gol che chiude i giochi L'ottavo gol in stagione Per Ettore Fadiga Che fa 4-1 Sì molto bravo Ferrante Iniziare questa azione E poi anche concluderla Con il tiro verso la porta Deviato Sui piedi giusti Quelli di Ettore Fadiga Che da neanche un passo Riesce a infilare il portiere Per quello che vale il 4-1 Partita forse chiusa Un gol importantissimo Non ha fatto una prestazione super Oggi Ettore Fadiga Però è sempre al posto giusto Al momento giusto E questa è una cosa da sottolineare Perché non è mai scontato Esce ora il capitano Esce ora Conti Ed entra Fabio Che oggi è stato davvero Providenziale Per il balza Ferrante Si abbassa Fabio Che viene a ricevere ora il pallone Poi ingenuità di Fabio Clamorosa Dradi Di Bitonto para Qui Erroraccio di Fabio Un'ingenuità difensiva Adesso seguiamo Mogari Che gioca la palla lì indietro Per la medica Che cerca la verticale Per De Pietro Capisce tutto Mordacci Che poi va a pescare Fabio La porta è sguardita Fabio Di pochissimo Non trova il raddoppio Non trova la doppietta Qui si divora La rete del 5-1 Però l'11 Tra l'altro Ho visto anche la rabbia di Luigi Qua sotto nei nostri teleschermi Ma chiaramente L'occasione di Fabio Era ghiotta Era a tu per tu Mancava soltanto L'ultimo avversario da battere Che non era il portiere In questo caso Non è riuscito a centrare lo specchio Grande occasione per Fabio Che non trova la doppietta Non trova i primi due gol In Serie B di Fuzza Ancora in possesso il set Che vora da Dradi Che sfida tutta la retroguardia avversaria Prova A districarsi Nella maniera migliore possibile Ce la fa Dradi Che poi si porta a casa Anche un calcio di punizione Adesso si lamenta il 2 Che per proteste Si prende un cartellino giallo Proteste anche Da parte di Toschi Che si prende Anche sul cartellino giallo E poi attenzione Cartellino rosso Per Toschi Qualche parola di troppo Per il numero 14 Quando manca ormai pochissimo Allo scadere della partita Dradi Il fischio dell'arbitro Va dalla medica Che spedisce alto Sopra la traversa Di un soffio Di bitonto controlla E ora affida la sfera A Fabio Quando manca pochissimo Quando mancano 10 secondi di gioco Alla fine dell'incontro Ora l'11 va dal 24 Che gioca col cronometro Sfida anche Mogari Duella un po' E poi Restituisce il pallone all'11 Che aspetta solo la sirena Che arriva ora Finisce così Balza 4 A posa 1 Un incontro importantissimo Per Fabio Che si sblocca finalmente Dopo un lunghissimo digiuno Arriva la gioia anche per lui Un gol importantissimo Peccato che non sia riuscito a raggiungere anche la doppietta Poco importa però In una giornata come quella di oggi In cui è entrato E ha stravolto la partita Eccoci finalmente nel post partita Di balza A posa Bologna Una partita bellissima Che si è conclusa Col punteggio di 4 a 1 Si sono visti gli spettri Di Real Casalgrandese Soprattutto è d'inizio Secondo tempo Dove ha incassato il balza La rete valevole L'1 a 1 Dopo si è ripresa bene Molto bene Calaia Ed è arrivato anche Il primo gol In serie B di Fuzza Di Fabio Di Mauro Sì C'è da dirlo Non è stato neanche un gol molto banale Il gol è stato molto bello Magari è anche un tipo di gol Che non ti aspetti da Fabio Visto sia come ha portato il pallone Sia poi per come ha realizzato Tra l'altro Con il piede rebole Con il destro Che tanto è stato anche criticato In generale si può dire Fabio ha giocato una buona partita Magari leggero calo dopo il gol Non so se lo abbia metabolizzato subito Lo chiederemo a lui E in generale si può dire Che il balza Ha meritato questa vittoria Anche se è un pochino in calo All'inizio del secondo tempo Adesso Fre Si è a meno 7 punti Dal Fuzza al Ponte d'Era Che oggi ha pareggiato 4 a 4 contro la San Giovannese Il campionato è ancora lungo Mancano 5 giornate Alla fine di questo Però comunque diventa difficoltoso Rosicare 7 punti Sui 15 a disposizione Nelle prossime 5 giornate Sicuramente c'è da dire Che un fattore Che gioca a favore Della squadra di Mr. Velimir Andrej Che comunque si è già affrontato Le prime della classe Adesso manca solamente L'Atlante Grosseto Che affronteremo sabato prossimo In trasferta E poi dopo mancherà il Prato Che sono le due formazioni Un po' più di calibro Dopodiché sono tutte partite Ampiamente alla portata In cui il balza deve fare punti E provare a raggiungere Quello che ora è un sogno Però a volte ci si può anche credere ai sogni Noi adesso iniziamo Il nostro giro di interviste E partiamo da lei A grandissima richiesta La fisioterapista Silvia Evali Andiamo a sentirla Finalmente a grande richiesta Siamo riusciti a portarvi La fisioterapista Nonché dottoressa del balza Silvia Evali Volevo chiederti Quali fossero le tue impressioni Della squadra Come ti trovi al balza Qual è anche la tua mansione All'interno della squadra Magari domanda banale però Lo diciamo anche al popolo di Youtube Ok In realtà come fisioterapista sportiva La mia mansione consiste In tutto quello Che è l'aspetto sanitario Della squadra Quindi a partire da piccoli infortuni Durante l'allenamento Seguire le partite Per essere pronta Qualora ci fosse un infortunio in campo E anche gestire Tutti quelli che sono I programmi di allenamento Della forza Circuiti di prevenzione infortuni Quindi tutto l'aspetto sanitario E ovviamente è una cosa Che si snocciola Anche fuori dal campo Perché tante volte C'è anche bisogno Di preparare delle schede specifiche Di allenamento Insomma Seguire i ragazzi In tutto anche il pre e post operatorio Ok Quindi diciamo che Non sei solo massaggiatrice Sottoscriviamo quello Che magari molti dicono su Youtube Non sei solo massaggiatrice Bensì fa anche tante altre cose È il tuo primo anno È la tua prima esperienza In una società sportiva? No Allora Questo è già il secondo anno Con il Balsa E poi in realtà Per un periodo Avevo seguito una squadra Di calcio a 7 In un'altra regione Comunque però Facevo più o meno Lo stesso lavoro Però diciamo A livelli ovviamente diversi Perché non era Una serie B di calcio a 5 Quindi le mansioni Sono diverse Quest'anno è sicuramente Più impegnativo Però è una bella squadra Il mister è molto bravo C'è una dirigenza eccellente Quindi ci troviamo bene I ragazzi Sono molto preparati Quindi diciamo che ti trovi bene Anche a fronte di questo Rimarrai qui anche il prossimo anno Sì sì Molto probabile Molto probabile Anche perché il popolo di YouTube Lo vuole Quindi insomma Vi abbiamo portato Silvia e vi diciamo Che ci sarà anche il prossimo anno E in seguito Insomma Avervi portato La fisioterapista del Balsa Io direi di lasciare un grandissimo Vai dillo te Like Condividete Commentate E continuate a seguirci Detto questo Noi ringraziamo La fisioterapista del Balsa Grazie mille Silvia Per l'intervista che ci hai concesso È stato un piacere Adesso passiamo alle prossime interviste Eccoci con Fabio Nel post partita di Balsa A Posa Bologna Oggi è più bello intervistarti Perché hai segnato Il tuo primo gol Nel mondo della Serie B Di Futsal Insomma Si è visto anche nel primo tempo Hai giocato una buona partita Avevi il mondo di qualcuno Che oggi avrebbe segnato Sì dai Ero carico Oggi ci credevo nel gol E sono molto felice Che sia arrivato Mi spiace un po' Per quello mangiato alla fine Per qualche errore Però nel complesso Sono felice Di una buona prestazione Sì tra l'altro direi Hai segnato il tuo primo gol Però al contempo Anche la partita In cui ti porti dietro I più rimpianti Anche nel primo tempo Andò via sulla fascia destra Sei trovato l'antica al portiere Non sei riuscito a segnare Lì chiaramente errore meno grave Sì anche là dovevo segnare Diciamo che Ho visto il portiere Che stava andando giù Ho tirato alto Me l'ha presa a colpetto credo Mentre si stava stendendo Praticamente verso l'indietro Quindi anche un po' di sfortuna Secondo me Anche sul gol Ho sbagliato alla fine Ho visto un uomo al centro della porta Volevo piazzarla Ho sbagliato Ho angolato troppo Per quanto riguarda Il tuo primo gol È arrivato in un modo un po' atipico Non ti aspettavi probabilmente Neanche te di segnarlo in quel modo Un gol comunque Che ti puoi aspettare più da fatica Da un giocatore più da Stazza fisica Beh sì Mi sono trovato in quella situazione Non c'era nessuno a cui appoggiarla Quindi penso fosse la cosa giusta da fare Ho visto l'avversario dietro di me E quindi l'ho spostata sul destro Dove ero più libero Guarda un po' Ti sposti la palla sul destro E segni Nel senso Anche gli avversari Molte volte non si aspettano Che tu vada sul piede debole Alla fine Lo hai fatto E sei riuscito a trovare lo spazio giusto per segnare Noi adesso passiamo alle domande di Antimo Su Fabio E sul suo primo gol In Serie B di Futsal Eccoci Fabio Anche con le mie considerazioni Innanzitutto complimenti per la partita Oggi sei riuscito a raggiungere finalmente Il tuo primo gol Un gol pesantissimo Perché quando la partita era ancora così e così Sei entrato Ha fatto gol prima a Calaia Poi te Insomma Quando sei subentrato Hai dato il tuo contributo In maniera importante Alla causa balza Ed è secondo me una delle prime volte In cui tralasciando i gol che hai sbagliato Sei stato un game changer Perché quando ci sei stato in campo La palla viaggiava molto di più E sei riuscito a dare un contributo importante Eh grazie Dunque sì Sono felice del primo gol Sono felice che abbia aiutato la squadra Visto che era anche in un momento Come in tutto abbastanza difficile dalla partita Quindi si è andata bene Sei entrato molto bene nel primo tempo Molto bene nel secondo tempo Poi dopo quando sei rientrato la terza volta Pochi minuti dalla fine Sei andato un po' in blackout Cos'è mancato a Fabio? Sì forse un po' perso di lucidità Magari anche al primo gol Diciamo che non so Forse era un po' già di soddisfazione Non lo so Forse mi sono un po' accontentato Sì quando sono rientrato Eh sì Fabio Forse ti sei un pochettino accontentato Però resta una grandissima prestazione Questa è da sottolineare L'importante Tralasciando il gol sbagliato E l'approccio che hai avuto alla partita Ripeto quando sei entrato in campo Hai dato davvero un contributo importante E adesso nella prossima partita Troviamo l'Atlante-Grosseto Una partita comunque difficilissima Contro la terza della classe Come si approccerà il balza a questa? Inoltre è l'ultima partita Prima della sosta E dopo insomma si riprenderà il campionato Sì è una partita molto difficile È la prossima Però comunque dobbiamo mettercela tutta È difficile ormai arrivare al playoff Dobbiamo comunque provarci Giocare punto su punto E dare il massimo ad ogni partita Anche personalmente Che devo usare anche quest'anno Un po' per crescere A livello individuale Anche a trovarmi un po' con la squadra Sono comunque partite importanti per me E appunto è comunque dare il massimo E poi è anche importante Familiarizzare col gol Come hai fatto oggi Che magari può essere un incentivo in più Anche per timbrare il cartellino Chissà Sabato prossimo Contro una squadra di un certo livello Anche perché nel calcio 5 È molto più probabile fare gol Rispetto al calcio 11 Sì certo Adesso finalmente che mi sono sbloccato Quindi magari posso puntare a fare un po' meglio A livello personale Magari fare anche qualche gol in più Allora adesso possiamo andare in chiusura Richiamiamo Fre Vieni Fre Noi ragazzi vi ringraziamo Per aver visto questo video fino alla fine Mi raccomando come sempre Fatevi sentire con il vostro supporto Commentate tantissimi Fateci tantissime domande Iscrivetevi sempre al canale Attivate la campanellina E seguiteci anche su tutti gli altri social Instagram e TikTok Dove anche lì porteremo nuovi contenuti Esatto ragazzi Seguiteci anche perché oggi È un giorno importante Il giorno del primo gol in Serie B di Futsal di Fabio Quindi insomma Fateci questo regalo Fabio ve ne ha fatto uno Fatecene uno anche voi a noi Il regalo tra l'altro Fabio se l'è fatto anche da solo Visto che questa è stata la settimana Del suo compleanno Come ben sapete E guarda un po' È arrivato il primo gol Nel mondo della Serie B di Futsal Proprio questa settimana Incredibile Sì vi volevo ringraziare tutti Per gli auguri che mi avete fatto Sia su YouTube Che su Instagram Mi spiace se non sono riuscito A ringraziare ognuno di voi Ma lo faccio adesso Davvero grazie mille a tutti Ragazzi mi raccomando Iscrivetevi Perché a raggiungimento Di 100.000 iscritti Entro il prossimo video Fabio si tingerà i capelli Come Abra Kalaya No Noi ragazzi vi ringraziamo ancora Per la visione Ci vediamo settimana prossima Con un nuovo video Ciao ragazzi